Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video su Clash Royale Volevo far vedere che questo è il mio nuovo mazzo dall'ultimo episodio Ho trovato questa qua, la capana dei barbari Io non la userei nel mio mazzo perché è comunque un mazzo che prevede che ci siano un tank Che dà molto fastidio all'avversario E poi il resto diciamo che sta bene come sta secondo me Cos'ha qua? Io direi di provare a fare una battaglia giusto così per farvi vedere come funziona Allora, grazie Intanto vi mostro che di solito uso una truppa d'aria e una truppa di terra Visto che è ma cavolo Che si scheletrini della merda Eh ma non è possibile Cioè ma quanto fastidio possono dare? Lo danno, eh? Tutto quanto lo danno Eh ma non è possibile E sai che c'è? Vediamo l'attacco dall'altro lato, eh? Brucia, brucia Fa che ti brucia Ma quanto meno al mini pecca Ma guardatelo, è impossibile Ma meno come se non ci fosse un domani Poi il bello del cavaliere forse è uno dei miei personaggi preferiti Perché comunque facendo la sua carica mena parecchio Devo proprio ammetterlo La sua carica fa veramente un casino Ehm Un sincero, e se io avessi gli scheletrini non li userei perché vedete per esempio le fracce che costano treno Eh li uccidono praticamente tutti E quindi alla fine ci vai a perdere perché Io sono con un esilio in più di te che ti ucciso tutti gli scheletrini che hai messo E non so quanto ti convenga alla fine Boh Però con che sono una truppa epica quindi Con che se ce l'avessi Sì e no Forse me lo metterei Cioè io ho questo gigante scheletro Ma non vedo tutta questa necessità di metterlo Ho visto che comunque una truppa è veramente molto molto pesante Perché Cioè dai raga non è possibile Non c'è né in cielo intera quanto cavola Cioè non è Non è roba perché Si va bene tutto ciò che volete Lancia la bomba ma costa troppo Cioè Dai ragazzi Ci può fare Ma 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 distruggetevi quella cosa là Mi credo che vi posti tanto Mi credo che vi posti tanto Mettiamo un'altra draghetta Mini pack 30 secondi 30 secondi Poggio di frecce Dai ragazzi Mi è nata l'ultima cosa Sì È la quarta corona Quanti secondi stavano E ora raga voglio vedere Quanti secondi mancavano Non è possibile Ma avete visto Cioè avete visto Ma che roba No Eh sporchiamo sto bambino Che stiamo Ma avete visto Quanti secondi Mamma mia Vabbè raga Ci vediamo a un prossimo video Per un altro attacco Lasciatemi in descrizione Che cosa pensate Che dovrei usare Un mazzo buono E Niente Ciao a tutti